ciao amici oggi vi voglio raccontare una particolarità di una città molto famosa nel mondo questa città è san francisco e noi ci siamo stati ci siamo stati ai quasi dieci anni fa è una città magnifica ci è rimasta davvero nel cuore come gli stati uniti dove ci sono i parchi naturali veramente i più belli al mondo e sicuramente torneremo in futuro ma tornando a san francisco quello che vi voglio raccontare è il fatto che noi l'abbiamo visitata ad agosto e tutti si aspettano ad agosto di fare delle vacanze calde quindi preparato un po sempre mezze maniche noi giravamo san francisco e c'era un freddo incredibile e dall'alto delle delle alture di san francisco sapete tutta alta e bassa si si vedeva il famosissimo golden gate il ponte americano per eccellenza oltre a brooklyn però questo lo sapete quello di colore rosso da lontano era completamente coperto dalla nebbia e a noi sembrava strano ma un giorno parlando con una signora americana del posto questa ci raccontò di un detto americano e questo detto americano che è stato inventato da mark twain dice l'inverno più freddo che ricordi è stata un'estate a san francisco e questo ce lo disse questa signora per farci capire quanto è famosa san francisco ad agosto in giro per niente era una chicca che vi volevo raccontare quindi se andate a san francisco portatevi un maglioncino anche d'agosto ciao amici a prestissimo I don't have to know where I wanna go Cause this way is my home